ragazzi 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 ciao ragazze gentaglia cagnacci viva vita tutta la vita bella per te allora ho fatto l'introduzione ma sono pure segnale perché sennò non mi veniva eccola qua invece faremo buona la prima grande invenzione di mille accendini sapete che mille accendini ha delle invenzioni rivoluzionarie allora quanti di voi hanno riscontrato il problema di non avere un audio buono per il proprio telefono ecco vi trovate una sera così nostalgici a camminare per strada e volete e volete ascoltare la musica per benino e l'audio del vostro telefono non è soddisfacente che cosa facciamo prendiamo il telefono adesso si potete camminare per la vostra città potete utilizzare anche questa parte qua potete anche utilizzare l'ultima parte del bicchiere con la birra camminate ascoltate bene già in posizione così e potete anche bere bevete la birra nostalgici mentre ascoltate la vostra canzone preferita e l'audio è migliore senti questa è con la birra senza birra tra l'altro già sperimentato con la birra da un rumore più corposo doppio manco pola youtuber beiii